Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa al dimensionamento di un induttore sul modello LTSPICE. Infatti nel precedente video si è conclusa la conversione delle equazioni nel dominio del tempo e quindi adesso il modello SPICE è finalmente ultimato. Per verificare la correttezza dei dati ottenuti andrò a dimensionare lo stesso induttore che avevamo dimensionato con il modello analitico, quindi il modello che è stato realizzato su Excel. Per prima cosa sono andato a ricavarmi i coefficienti alfa, beta e k1 relativi al materiale PC40 e risultano essere pari ai valori riportati qui sul foglio. Successivamente sono andato a dimensionare la rete LR, partendo dalla conoscenza del tipo di nucleo e del numero di avvolgimenti. Ho deciso di utilizzare una rete LR che è composta da tre maglie in quanto si riesce già ad ottenere un valore sufficientemente preciso della resistenza AC e quindi di conseguenza sono andato a ricavare questi quattro punti di frequenza dal grafico che abbiamo visto nei precedenti video. Dalle dimensioni del diametro del filo che ho utilizzato per avvolgere il nucleo risulta che la frequenza di taglio in questo caso è pari a 50 kHz e quindi rispettando la condizione che abbiamo visto la volta scorsa sono andato a ricavare il valore di resistenza AC ogni 10 volte la frequenza precedente. Nello specifico alla frequenza di 500 kHz, alla frequenza di 5 MHz e alla frequenza di 50 MHz e questi sono i valori di resistenza AC corrispondenti. Ed una volta note tutte queste informazioni è stato possibile ricavare i valori della rete LR. Quindi questi sono i valori dati alle resistenze mentre questi sono i valori dati alle induttanze. Inoltre ricordando tutti i dati di input che avevamo dato al modello Excel, ovvero come abbiamo già visto materiale PC40, nucleo EE25, numero di giri pari a 20, MU con R pari a 110 e che inoltre la corrente variava da un picco massimo di 2A con un ripple di 1A alla frequenza di 300 kHz, è stato possibile ricavare i seguenti valori di perdita. Ovvero per quanto riguarda le perdite DC abbiamo 121 mW, per quanto riguarda le perdite AC abbiamo 44 mW, mentre per quanto riguarda le perdite nel nucleo abbiamo 530 mW. Ora quello che ci resta da fare è andare su LTSpice e vedere se i valori di questo modello analitico coincidono con i valori del modello che è stato realizzato su LTSpice. Eccoci qui su LTSpice e abbiamo qui il nostro induttore che è soggetto a questa corrente variabile, quindi abbiamo detto di picco massimo 2A e di ripple 1A, alla frequenza di 300 kHz. Qui abbiamo il numero di giri pari a 20 e la permeabilità relativa pari a 110, quindi qui è il blocco relativo alle perdite per isteresi, mentre questo è il blocco relativo alle perdite nel filo, quindi questa resistenza corrisponderà alle perdite DC, mentre le perdite che si avranno su queste altre tre resistenze corrisponderanno alle perdite AC. Quindi adesso avvio la simulazione. ci fermiamo in un istante dopo un bel po' di tempo e per quanto riguarda le perdite nel nucleo, quindi per isteresi abbiamo che sono pari a 228 mW, mentre per quanto riguarda le perdite nel filo, sono pari a 172 mW. Spice lo vede con valore negativo, ma bisogna interpretarle come ovviamente perdite positive, quindi corrispondono a più 172 mW, di cui 121 sono di perdite DC, quindi la restante parte, ovvero effettuando la sottrazione con il valore precedente, corrisponde alle perdite AC del filo. Molto bene, quindi come si può vedere il modello sembra funzionare correttamente. Confrontando i risultati ottenuti con LTSpice, con quelli del modello analitico, possiamo constatare come le perdite DC e le perdite AC ricavate dai due modelli sono praticamente identiche. Mentre per quanto riguarda le perdite per isteresi nel nucleo, qui abbiamo una sostanziale differenza. E quindi ci chiediamo quale delle due è giusta? Ovviamente la risposta è la seconda. E perché riesco ad affermarlo con certezza? Perché se vi ricordate abbiamo detto che le curve di perdita che si ricavano dal datasheet dei materiali ferritici sono per correnti perfettamente sinusoidali. Invece la corrente con cui abbiamo dimensionato questo induttore presenta un offset, un offset di un ampere e mezzo. E questo caso non è in teoria dimensionabile con questo modello. Quindi per riuscire ad ottenere questo risultato con il modello analitico ho dovuto effettuare delle forzature. Mentre per quanto riguarda il modello su LTSpice, essendo che può calcolare le perdite di qualsiasi forma di corrente che attraversa l'induttore, può perfettamente calcolare le perdite di questo caso in particolare. E quindi questo risultato è di sicuro migliore rispetto a quello ottenuto con il modello analitico. Molto bene! Quindi con questo test finale si conclude anche la seconda fase dello studio, riuscendo alla fine a realizzare il modello su LTSpice. Molto bene! Per oggi quindi è tutto! Alla prossima!